Claudio Milandri, sindaco di Civitella di Romagna. Sull'importanza della comunità energetica non ci sono dubbi, sono ormai diversi mesi che abbiamo intrapreso questo percorso con la speranza di arrivare velocemente ad una soluzione. Sembra che bene o male con i decreti applicativi e con tutto quello che sta facendo adesso il governo per cercare di venerci incontro stiamo arrivando a una soluzione, quindi grazie. Grazie perché è un obiettivo non soltanto economico ma sociale e molto importante per le nostre comunità. Grazie mille.